Buonasera ai nostri telespettatori, ben riprovati all'appuntamento con il Fatto. Oggi parliamo di ambiente, lo facciamo ai massimi livelli perché abbiamo ospite nei nostri studi, il direttore generale dell'Arta Abruzzo Maurizio Dionisio. Buonasera direttore. Buonasera a voi. E parliamo dello stato di salute soprattutto dei nostri mari, ma anche di progetti importanti che riguardano le aree interne. In questa chiacchierata però non possiamo non iniziare parlando delle bandiere blu, confermate, aumentate di uno con il ritorno di Ortona dopo 11 anni. All'indomani anche degli ultimi prelievi che state facendo e che farete periodicamente anche in avvio di stagione balneare. Ecco, qual è il quadro generale e soprattutto lo stato di salute delle spiagge e anche dei laghi abruzzesi? È uno stato di salute sostanzialmente globalmente buono. I nostri uomini, ovvero i tecnici, biologi, chimici, fisici, che quotidianamente sono impegnati sul fronte mare, noi abbiamo all'interno di Art Abruzzo proprio un ufficio, una struttura che si occupa esclusivamente del mare, che unitamente alla regione Abruzzo, che determina i punti di prelievo ad ogni stagione, e quindi questa mappatura che parte da Martinsicuro fino a San Salvo, dicevo, vede gli uomini impegnati in operazioni di prelievo e il successivo impegno analitico. È un mare che gode la nostra regione, in particolare al modo pescara, di un buon stato di salute. Avete fatto dei campionamenti che hanno dato risultati favorevoli, possiamo dire positivi perché poi in questi casi si equivoca anche il significato del termine, però appunto ci sono stati dei dati, come è sempre avvenuto negli ultimi anni, che hanno riguardato in particolare le foci di corsi d'acqua, tratti molto limitati, in cui c'è una parziale e temporanea non balneabilità. Che cosa succede per questi tratti? Spieghiamolo bene e soprattutto perché questo per esempio è accaduto anche in comuni che sono stati insigniti nei giorni scorsi della bandiera blu, in molti non capiscono questo aspetto. Perché le foci dei fiumi, che vengono comunque analizzate, non rientrano nella valutazione globale. In altre parole, ci sono talluni punti che hanno delle caratteristiche di criticità in re ipsa, ovvero noi già sappiamo che alcuni parametri microbiologici, ovvero gli scherichia coli e altri, saranno superiori ai limiti imposti dalla norma. E questo in quanto le foci sono dei punti di grande criticità, perché arrivano le acque dei fiumi che lungo l'asta fluviale riportano, inglobano l'opera di depuratori che non sempre lavorano al massimo o nel migliore dei modi, in ragione di vetustà, in ragione di caratteristiche tecniche oramai superate negli anni. Quindi quali sono i punti che concorrono per determinare la qualità? Sono quei punti, lontani dalle foci, che sono antistanti, ad esempio le spiagge, dove in realtà l'estate i bagnanti si recano per fare il bagno, il classico bagno estivo. Questo è il motivo. Tallune e criticità non rientrano nel computo generale. Tanto è vero che alcune associazioni, anche amiche, quale Lega Ambiente, e tutti ricorderemo Goletta Verde, operano delle classificazioni diverse. E queste classificazioni diverse, che comprendono anche le acque in prossimità delle foci, danno dei risultati che non sempre sono collimanti con quelli dell'ente pubblico di controllo, ovvero dell'Art Abruzzo. Ecco, in questo caso, e non è nemmeno vostro compito istituzionale, occorrerebbe che si facessero degli interventi. In realtà molto è già stato fatto, perché la situazione dei depuratori in Abruzzo, se lei mi può confermare, è molto migliorata ed è un tendenziale ulteriore miglioramento. Non è più un'emergenzissima, diciamo che è una mezza emergenza, soprattutto in alcune zone. Ma quali sarebbero, secondo lei, dal punto di vista tecnico, gli interventi e soprattutto le procedure di interattività tra il vostro lavoro e quello degli amministratori, per migliorare questa situazione? Come lei ricorderà, direttore, già all'incirca una ventina di anni fa ho ricoperto il medesimo ruolo che sto ricoprendo in questi anni, quindi di direzione di Art Abruzzo. Quindi ho memoria storica del fatto che almeno vent'anni fa i depuratori dei comuni che sversano, immettono lungo le aste fluviali, era decisamente più critica. Ecco quindi che già nel corso degli anni vi è stato un miglioramento. Quali sono le criticità che perdurano? Sono criticità legate a fattori eccezionali. Faccio un esempio. Il classico temporale estivo crea un aumento dei liquidi tali che si viene a verificare un colmo, come posso dire, del depuratore. In altre parole, arriva una quantità di acqua talmente tanto elevata che il depuratore non è in grado di elaborarlo nei processi di purificazione delle acque ed ecco che viene immesso poi un pochino tutto. Tanto è vero che noi evitiamo, e la legge ci dà tale facoltà, di effettuare i campionamenti immediatamente dopo delle grandi precipitazioni. Ecco, è necessario che i comuni si dotino di strumenti sempre più efficienti. Le grandi fiere del settore, che sono Ecomondo e il Remetec di Ferrara, di fatti, vedono la presenza di società ditte specializzate che di anno in anno presentano sempre nuovi strumenti, nuove metodiche, nuovi apparati depurativi, sempre al passo ovviamente con le migliori tecniche del momento. Sarebbe opportuno che ci sia sempre una maggiore sensibilizzazione e rinnovamento da questo punto di vista tecnico. Ecco, per chiudere su questo argomento, perché è molto interessante, e riguarda soprattutto la manutenzione dei fiumi, perché, come diceva, le due cose vanno di pari passo. C'è anche il discorso della difesa del rischio idrogeologico, di cui ovviamente Arta non si occupa direttamente, ma di cui però constata gli effetti quando arriva tutto in mare, oltre che naturalmente sulla qualità dei fiumi. Può essere utile un intervento come quello che si sta realizzando con le vasche di espansione, in particolare in alcune zone a rischio di questa regione? Cioè va considerato tutto dal punto di vista sia ambientale, della qualità delle acque, ma anche, quindi per contrastare l'inquinamento, ma anche del rischio idrogeologico? Tutto è utile in tal senso. Guardi, proprio l'altro giorno, in compagnia del direttore generale di Arpa, Emilia Romagna, si parlava, e anche altri direttori di Arpa, si parlava degli effetti che proprio in questi giorni nel nord si stanno verificando con… C'è il triste anniversario dell'anno scorso dell'alluvione in Emilia Romagna. Esattamente. Proprio in questi anni, oggi. Un'attenta rivisitazione dei fiumi, dei corsi d'acqua superficiali, anche attraverso quelle che sono le caratteristiche proprio tecniche degli invasi, permetterebbe di superare queste problematiche. C'è da dire che il nostro Paese, nell'intero suo sistema nazione, sta faticando per stare dietro alle continue modificazioni del territorio, fatte magari in tempi in cui gli strumenti urbanistici non prevedevano rigori, metodiche come quelle che dovrebbero essere applicate. Noi, come Arpa, dico sempre che siamo il termometro dell'ambiente, nel senso che noi misuriamo le criticità. La terapia poi deve essere somministrata dal medico, in questo caso i medici sono i decisori politici e gli amministratori. Ecco, questo è vero dal punto di vista istituzionale, però io penso che lei, anche proprio alla luce della sua esperienza, abbia l'ambizione in questo mandato di far fare all'arte un salto di qualità, che non è soltanto quello di chi controlla, ma anche quello di chi propone delle soluzioni e soprattutto si impegna, assieme ad altri soggetti, in progetti strategici. Per esempio sul tema delle alterazioni climatiche, di cui stavamo parlando prima. In questo caso, proprio in questi giorni, avete presentato insieme a Calabria, Emilia Romagna, questo progetto che si chiama VEBS, presentato all'Università dell'Aquila, che serve a monitorare le azioni, mi pare, poi ci spiega lei nello specifico, anche di forestazione urbana, di manutenzione e gestione delle aree verdi, in particolare in questo caso sulla città dell'Aquila. Cosa si sta producendo? Io, direttore, la devo ringraziare di questa domanda, perché tratta di un argomento che a me sta particolarmente a cuore. Vede, quando si parla di ARTA, spesso si parla, nella concezione generale, di un grosso laboratorio di analisi che si occupa dell'acqua sporca. In realtà le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, e lo dico anche nella mia veste di vicepresidente di Assoarpa, sono qualcosa di più, devono essere qualcosa di più. Le ARPA sono dispensatori di servizi complessi, quindi che si occupano anche d'altro. E il progetto al quale lei faceva scenno è una di queste dimostrazioni. La valorizzazione delle aree verdi e blu, verdi intesi come parchi urbani, blu come corsi d'acqua superficiali rappresentati da fiumi e da laghi. Proprio qualche giorno fa il governo cileno ha ufficializzato che nel miglioramento delle terapie è possibile somministrare a pazienti affetti da talune patologie, la presenza nel verde. La presenza nel verde, la presenza all'interno dei barchi urbani, è sinonimo anche di miglioramento della qualità della vita. Il progetto che vede la presenza anche di ARPA Calabria e di ARPA Emilia Romagna è proprio teso alla valorizzazione delle aree verdi e blu. Racconto sempre che una grande città caotica come New York e New York City ha al proprio interno un parco che si estende per 4 chilometri di lunghezza e 800 metri di larghezza, che è Central Park. Nonostante la intensità antropica di Manhattan, quello garantisce una qualità della vita ai new yorkesi elevatissima. Poi si cerca di fare anche in qualche modo il bene, un supporto non soltanto repressivo ma collaborativo con l'economia, con gli operatori del territorio. In questo senso sta procedendo, mi pare, il progetto sulla regione del benessere che si articola su vari campi, però proprio in queste ore ci regala un'altra notizia importante che riguarda la certificazione delle strutture ricettive. Il legislatore regionale ha voluto attraverso una norma prevedere questo concetto, Abruzzo-regione del benessere. Regione del benessere sta a significare non solo un ambiente monitorato, controllato e quindi salubre, ma anche un'attività fisica congrua, una alimentazione che tenga conto delle caratteristiche del nostro territorio, il cosiddetto chilometro zero. Noi siamo convinti, attraverso gli studi che stiamo conducendo, che l'insieme di questi tre elementi, un ambiente sano, un'alimentazione corretta, un'attività fisica giusta e congrua, possono determinare l'insieme di fattori che permettono di definire l'Abruzzo una regione del benessere. Nell'ambito di questa grande progettualità, anche l'individuazione di esercizi quali hotel, agriturismi, camping, strutture ricettive, anche di ristorazione, che abbiano talune caratteristiche elencate in un rigido protocollo, permetterà ad Art Abruzzo di attribuire una sorta di premialità, ovvero quelle strutture che hanno le caratteristiche da noi indicate potranno freggiarsi dello stemma di Abruzzo Regione del Benessere e percepire anche delle somme che verranno utilizzate per scopi didattici, di comunicazione, di miglioramento del sito web, dell'esercizio commerciale ed altre caratteristiche. È una delle tante attività che vedono per l'appunto Art Abruzzo, dispensatore di servizi complessi. Come possono fare questi imprenditori a accedere a questa certificazione? Attraverso la lettura del bando che proprio in queste ore viene pubblicato sul sito di Art Abruzzo. Devo ringraziare l'assessore, il sottosegretario Damario, per l'opera importante di collaborazione, perché è fase di promozione turistica ovviamente, che ha avuto con Art Abruzzo. Dicevo attraverso la consultazione del nostro sito, la predisposizione di un modulo, di un'istanza, che inizierà un percorso virtuoso. Verranno controllate le caratteristiche dell'esercizio richiedente da tecnici all'uopo specializzati e se tali caratteristiche verranno ritenute presente, ci sarà la premialità e la possibilità di freggiarsi di quest'ulteriore marchio di qualità. Beh, questa è un'informazione che ci tenevamo anche a comunicare ai nostri telespettatori, in particolare ai tanti operatori, sono sempre più in crescita, per fortuna, anche del settore della ricettività, della micro ricettività, che comunque è coinvolta in questa avventura dell'Abruzzo, che si qualifica sempre più anche come regione del benessere, nell'immagine che vuole assumere nei confronti di chi arriva in questa regione, vuole trovare servizi sempre più adeguati, oltre che mangiare bene e avere un buon ambiente attorno. Grazie Maurizio Dionisio, avremo ovviamente altre occasioni. La disturberemo, speriamo sempre meno, se dovessero esserci emergenze, ma insomma contiamo sull'ampia disponibilità, soprattutto di informazione, ripeto, da parte vostra, nei confronti della cittadinanza, in situazioni che speriamo non si ripetano più, però sulle quali voi siete anche abbastanza tempestivi, mi pare di capire nell'intervenire, e soprattutto nel dare risposte. No, mi pare che abbiamo migliorato i tempi, anche le procedure di collaborazione con i comuni, nel caso di queste situazioni che possono riguardare incendi e altre calamità. Cerchiamo di arrivare sempre con la massima celerità, avendo dei tecnici sempre pronti, con strumentazioni sempre adeguate. Purtroppo il periodo estivo per noi è un momento di criticità, perché gli incendi estivi sono frequenti, e nascono i problemi di immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e anche, perché no, di utilizzo di acqua per lo spegnimento degli incendi, che poi finiscono pur sempre nell'ambito di processi depurativi. Cerchiamo di tenere alta la guardia. Naturalmente, allora, buon lavoro, perché potrebbe essere intenso anche quest'estate. Grazie mille. Grazie, arrivederci, buona serata. Buonasera.